Le previsioni sono state rispettate e il ponte del 25 aprile ha regalato a Gubbio un afflusso di turisti ancora più intenso di quello del già buono ponte pasquale. Il meteo per una volta ha atteso per guastare la festa solo la domenica pomeriggio, quando ormai i visitatori erano già, se non sulla via, sull'intenzione del ritorno. In attesa dei dati ufficiali dei musei, gli accessi all'ufficio turistico di Via della Repubblica raccontano una settimana, quella appena trascorsa, buona fino al 24 aprile, ottima da lì fino alla domenica. 200 gli accessi martedì 22 aprile, seguiti da un crescendo che ha fatto toccare il suo apice sabato 26 aprile con 432. Un segnale positivo commenta il responsabile dell'ufficio turistico Evelino Bagnarelli che inverte finalmente la tendenza negativa registrata nello stesso periodo del 2013. La stragrande maggioranza dei vacanzieri è italiana, gli stranieri, secondo previsione, sono attesi in dosi più massicce da maggio in poi. E la città si è presentata a questo stuolo di turisti con i suoi appuntamenti tradizionali del 25 aprile, dalla commemorazione dei caduti delle guerre con il corteo delle autorità seguito dalla banda cittadina, allo spettacolo offerto dagli sbandieratori di Gubbio in Piazza Grande, applauditissimo dai presenti, affascinati dalle abilità di questi maestri della bandiera e dai loro costumi festanti. Il campanone del 25 aprile con la sua sonata delle ore 12 è stato l'appuntamento culminante del giorno di festa che ha chiamato a raccolta la città, uno spettacolo senza pari per la forte valenza simbolica che porta con sé, la voce delle eugobinità che si risveglia in date ed ore fissate dalla storia, ma anche per l'abilità dei suoi maestri campanari, depositari preziosi di una tradizione secolare.